Buonasera, buonasera ad Alessandro Lorenzini, bentornati su Radio Siena TV, seconda giornata delle corse a pelo a Pian delle Fornaci, anche oggi una bella riunione, tante corse, ben sette corse, tanti cavalli e tanto pubblico già presente qui presso l'impianto di Pian delle Fornaci, in esclusiva le corse su Radio Siena TV, come sempre vi racconteremo questa bella giornata che ovviamente è propedeutica per il circuito di corse a pelo, sarà interessante vedere alcuni cavalli, sarà interessante vedere anche la condizione di alcuni fantini, ovviamente ci avviciniamo verso il periodo ancora più intenso, verso gli appuntamenti delle corse e del circuito del protocollo. Tra l'altro proprio nei giorni scorsi si sono tenute le previsite per la missione al protocollo Equino 2017 alla Clinica del Ceppo e si parte, lo possiamo dire, da un gruppo molto numeroso, 151 cavalli presentati, alcuni sono stati assenti, ma insomma il gruppo è buono. Ma entriamo insieme a Susanna Pioli nell'argomento di questo bel pomeriggio a Pian delle Fornaci, c'è un bel sole che sta facendo capolino direto le nuvole, la prima corsa sarà una corsa dedicata ai cavalli anglo-arabi, 4 anni, 1100 metri, premio il campo. Ci sarà con il numero 1 Uberalles, il proprietario è Giovanni Azieni, il fantino è Cersosimo, con il numero 2 Ungar, il proprietario è Simone Mereo che sarà anche il fantino, con il numero 3 Urbina Bella, il proprietario è Simone Pioli con Enrico Bruschelli, con il numero 4 Ungaros, il proprietario è Giordano Dominici, Sebastiano Murtas sarà il fantino, mentre Lady Spina con il numero 5 Stefano Trochei è il proprietario, sarà Giosuè Carboni il fantino. E poi con il numero 6 Uncino, Nicola Sandroni è il proprietario, Rocco Betti sarà il fantino. Terribile da Clodia con il numero 7 Margheretti è il proprietario, Luigi Bruschelli il fantino e di rincorsa ci sarà Tremendo da Clodia proprietario e Gaia Tancredi. Paolo Arru, fantino uno dei volti nuovi di questa stagione di corse. Già al riscaldamento i cavalli, Susanna Pioli innanzitutto buonasera. Buonasera, ben trovati, bella giornata di corse, un programma molto interessante, si comincia ad entrare nel vivo. Ieri quando abbiamo visto Ivan arrampicarsi verso la clinica del Ceppo insomma abbiamo tutti capito che ci stiamo avvicinando davvero a grandi passi a quello che è l'appuntamento più atteso senza naturalmente dimenticare tutto quello che di altro accade in Italia con il primo appuntamento importante che sarà il Palio di Fuscecchio, poi Ferrara, Legnano e avanti ancora. Corsa su 1100 metri questa prima con le giovani promesse, sta passando di fronte a noi in questo momento terribile da Clodia di Margheretti con Luigi Bruschelli, la giuba di Luigi Bruschelli è nera e azzurra, passato di fronte alla nostra postazione anche con il numero 8 Paolo Arru con tremendo da Clodia, la giuba è quella di Gaia Tancredi rosso-verde, si stanno avvicinando anche gli altri per un giro di riscaldamento. Già in postazione c'è Gennaro Milone pronto per tendere il canape, immagino che comunque venga data possibilità a Cavalli e Fantini di fare qualche ulteriore sgambatura per conoscere meglio la pista e ancora sta passando Sebastiano Murtas, Simone Mereu, Alessandro. Sì, volevo dare alcuni numeri anche di questa giornata, sono ben 66 cavalli in questa giornata, un numero evidentemente molto alto che testimonia l'importanza, il fatto che Pian delle Fornaci sia sempre più punto di riferimento, 146 cavalli nelle due giornate con 15 corse in totale, questo è un segnale importante ovviamente che viene dato ancora da Pian delle Fornaci anche in questa stagione perché evidentemente c'era bisogno di rinnovare l'appuntamento con Pian delle Fornaci che è una pista, lo abbiamo detto tante volte, ma ci teniamo a ripeterlo perché è così, è la verità, è una pista attiva 365 giorni all'anno, gli spazi delle scuderie che sono posizionate nell'impianto sono pieni e quindi evidentemente c'è grande interesse. Poi la pista viene utilizzata moltissimo durante l'anno, è stata peraltro rifatta con un fondo che anche oggi nonostante qualche pioggia in settimana ha retto benissimo è evidentemente insomma un gioiellino che piano piano tra l'altro la società Pian delle Fornaci SRL sta cercando di migliorare, oggi ci sarà anche l'inaugurazione del parco giochi poi avremo modo di parlarne e quindi evidentemente sempre un miglioramento costante di questa struttura. Già un buon pubblico presente per questa prima corsa, per anglo-arabi, 4 anni e ci sarà subito qualcosa di interessante da vedere. Viene teso il canape, in questo momento ci sarà il nostro Susanna Gennaro Milone a dare appunto il via a questa giornata come starter, ovviamente lo abbiamo avuto lo avremo opinionista nelle nostre trasmissioni di avvicinamento e anche durante i 4 giorni di Palio ovviamente per cercare di capire meglio alcune dinamiche soprattutto legate ai cavalli. Sarà interessante anche oggi vedere appunto come dicevo in precedenza la condizione di Cavalli e Fantini si respira già aria di Palio, arriva la primavera e quindi insomma già sentiamo aria di Palio. Come diceva giustamente Susanna Pioli il fatto di vedere Ivan arrampicarsi sulla salita che porta alla clinica del Ceppo ci ha già fatto un po' emozionare insomma diciamoci la verità perché l'inverno è passato e ci avviciniamo alla stagione paliesca con poi tutti anche gli altri appuntamenti in provincia e non solo. Bene riprendiamo quindi con le presentazioni, nel frattempo c'è anche il nostro Enrico Corbelli che sta facendo il giudice d'arrivo quindi un altro opinionista che ha fatto compagnia anche a Monteroni d'Arbia nella lunghissima trasmissione fatta da Susanna Guarino insieme a me e facendovi compagnia anche per quella lunga e bella giornata. I cavalli nel frattempo dopo che il canape è stato steso stanno facendo ingresso all'interno dei due canapi con Gennaro Milone che sta iniziando a chiamare allo steccato dovrebbe entrare Uber Alles sono cavalli di quattro anni ma questo lo abbiamo già detto Uber Alles con Alessandro Cersosimo la giubba è nero-gialla per Alessandro Cersosimo con Uber Alles la proprietà è di Giovanni Azzeni numero uno di coscia per questo quattro anni che sta entrando in questo momento il numero due è per Ugar con Simone Mereu che ne è anche proprietario la giubba di Simone Mereu quella che ormai siamo abituati a conoscere rossa blu con stelle bianche mentre Urbina Bella con Enrico Bruschelli la grigia numero tre Enrico Bruschelli con giubba bordon nera con croce di malta color crema accanto a lui c'è Sebastiano Murtas, giubba bianconera per Sebastiano Murtas Ungaros il cavallo di Giordano Dominici che monta Sebastiano Murtas accanto a lui Gesù e Carboni con le di spina di Stefano Trochei la giubba è blu e arancio mentre accanto a Gesù e Carboni con il numero sei c'è Rocco Betti con uncino di Nicola Sandroni questo invece è Luigi Bruschelli con Terribile da Clodia giubba nero-azzurra per Luigi Bruschelli la rincorsa è per Paolo Arru i cavalli sono abbastanza tranquilli vediamo se il tempo della mostra è buono con la prima posizione per Sebastiano Murtas numero quattro per Sebastiano Murtas Sebastiano Murtas con il numero quattro Ungaros la seconda posizione è per Luigi Bruschelli con Terribile da Clodia quindi c'è Enrico Bruschelli con Urbina Bella poi Rocco Betti che prova ad attaccare all'esterno in questo momento ora prima posizione per Sebastiano Murtas che prova ad allungare sugli inseguitori Ungaros guadagna lunghezze importanti Ungaros in prima posizione Sebastiano Murtas sta venendo fuori anche Alessandro Cerzosimo Alessandro Cerzosimo con Uber Alice che è in seconda posizione ancora Luigi Bruschelli in terza posizione con Tremendo da Clodia terza posizione ma dall'interno sta entrando con il numero sei Uncino Rocco Betti Rocco Betti è in terza posizione in questo momento siamo sulla retta dell'arrivo con la vittoria di Sebastiano Murtas Sebastiano Murtas che va a vincere la seconda posizione è per Cerzosimo la terza è per Rocco Betti quindi riepiloghiamo l'arrivo con Murtas che è andato a vincere con Ungaros la seconda posizione è per Alessandro Cerzosimo con Uber Alice la terza è per Rocco Betti con Uncino e dunque un dominio in questa prima corsa premio il campo 1100 metri da parte di Ungaros Sebastiano Murtas il cavallo di Giordano Dominici che è andato a vincere questa corsa un cavallo che ovviamente di quattro anni anglo-arabo interessante che ha regolato Uber Alice proprietario Giovanni Azieni con Cerzosimo il terzo posto per Uncino con Nicola Sandroni e Rocco Betti subito una bella corsa competitiva per questa prima uscita questa sera a Pian delle Fornaci Siamo giunti alla seconda corsa delle sette che ci saranno questo pomeriggio a Pian delle Fornaci che vi offriamo in esclusiva su Radio Siena TV pochi minuti fa c'è stata una bella inaugurazione perché è stato tagliato il nastro del nuovo parco giochi realizzato in collaborazione con l'associazione Racing Club Equidia che a chiusura della sua splendida avventura nel mondo del bim Picasso, Chapa, Benicente ha voluto ottenere un importante contributo economico a Pian delle Fornaci per la realizzazione di alcuni giochi uno scivolo, un'altalena ovviamente non potevano mancare i cavalli ovviamente a molla nel parco giochi sarà un punto di riferimento ulteriore e importante per chi chiaramente vorrà portare i propri bambini in questo spazio potrà, fra virgolette, ovviamente perdonatemi la battuta parcheggiarli in questo parco giochi per godersi di questo splendido impianto è una miglioria inaugurata dall'assessore del Comune di Siena, Leonardo Tafani ulteriore a questo impianto che piano piano, anno dopo anno sta migliorando ovviamente per offrire sempre di più un grande servizio a tutta la comunità sienese e non solo ovviamente è un altro aspetto Susanna Pioli che è qui a fianco a me come sempre per commentare queste corse che migliora questo impianto che come abbiamo già detto vive 365 giorni all'anno anche grazie a queste migliorie incontine Ma sì, abbiamo sentito anche l'assessore Tafani infatti ringraziare proprio la società Piano delle Fornaci per aver portato l'ippodromo Paganini a nuova vita una nuova vita che naturalmente si sviluppa in ogni suo aspetto non soltanto quello del lavoro ma anche quello del gioco e quindi appunto l'inaugurazione del parco giochi i bimbi che oggi possono montare sui poni insomma un impianto di divertimento e di ricreazione a tutto tondo durante le manifestazioni in programma è un impianto di lavoro importante e produttivo invece al mattino e anche per i ragazzi stanziali che hanno deciso proprio di rimanere nell'impianto e tenere qui i propri cavalli Pubblico voltissimo anche questo pomeriggio siamo giunti alla seconda corsa per cavalli di 4 anni e oltre il premio Service Accounts 1100 metri cavalli puro sangue con il numero 1 Casinò il proprietario Giovanni Azzeni che sarà anche il Fantino con il numero 2 Piripicchio Jonathan Bartoletti il proprietario sarà lo stesso scompiglio a montare quindi con il numero 3 Willy Wonka di Maurizio Carboni con Giosuè Carboni Fantino con il numero 4 Scaramacai di Giulio Tanzini Enrico Bruschelli sarà il Fantino con il numero 5 Blackout di Carlo Sanna che monterà appunto il suo cavallo con il numero 6 Bimbino della scuderia di Giuseppe Zed con lo stesso Giuseppe Zed a montare il numero 7 Azzardo di Dino Pess con lo stesso Dino Pess a montarlo con il numero 8 U Prize con Andrea Mari e lo stesso Andrea Mari appunto che monterà quindi con il numero 9 Red Christian Bianchin con Simone Mereo con il numero 10 di rincorsa ci sarà Asso di Danilo Todde lo stesso Danilo Todde monterà questo cavallo di particolare interesse questa corsa per Purosangue ovviamente in proiezione soprattutto di Legnano e di Asti anche se insomma su Asti ancora le decisioni non sono state del tutto prese in merito alla direttiva Martini insomma tutta la querelle che ha interessato tanti paliotti in giro per l'Italia tra ovviamente Purosangue e Mezzosangue quindi avremo modo anche di riparlare di questi aspetti però è anche interessante capire appunto questa pista 10 cavalli come si muoveranno sia Alcana per gli ordini di Gennaro Milone che lo abbiamo visto molto in forma lo abbiamo fermato appunto fra una corsa e l'altra quindi sarà di particolare interesse anche questa corsa ovviamente occhi attenti anche delle dirigenze delle contrade di Siena per capire tutte le varie sfaccettature ovviamente si approfitta di queste giornate per stringere ulteriori rapporti fare due chiacchiere fissare appuntamenti nelle agende è sempre importante comunque ritrovarsi anche per quanto riguarda appunto le dirigenze di contrada le dirigenze senesi per fare due chiacchiere ovviamente anche se mi immagino insomma che i colloqui veri quelli intensi non vengono effettuati qui ma vengono presi più che altri appuntamenti per la settimana o per le settimane prossime ovviamente però abbiamo visto anche tante dirigenze delle contrade di Siena approfittare di queste belle giornate per venire qui a Pian delle Fornaci ovviamente a osservare da vicino Cavalli e Fantini Susanna ma sì poi magari gli incontri quelli veri sono proprio quelli che noi qui non vediamo tante volte ci inventiamo anche conversazioni facciamo è giusto che sia così anche divertente facciamo un po' di fantapalio poi molto spesso quello che si vede quello che si vede in giro poi non è quello che si riscontra il 29 sera ma questo naturalmente lo facciamo davvero per passare il tempo e per farvi compagnia nel frattempo c'è Gennaro Milone che sta attendendo il canape per questi 10 cavalli sono 10 cavalli puro sangue quindi naturalmente i nomi sono dei nomi di fantasia Alessandro quindi anche la nostra cronaca sarà più focalizzata sui fantini piuttosto che sui nomi dei cavalli l'interesse qui senz'altro per il pubblico senese è quello di capire lo stato di forma dei fantini perché comunque il canape è sempre quello anzi qui ci sono proprio 10 cavalli con una rincorsa per cui è interessante vedere i tempi di reazione dei fantini per quanto riguarda invece i cavalli come te giustamente sottolineavi magari gli occhi più attenti sono quelli degli amici di Legnano e degli amici di Asti che ci hanno forse un po' ascoltato e stanno provando mi si dice ad impostare una sorta di programmazione diversa del loro palio proprio impostato sulle misure Sì è un aspetto interessante questo per quanto riguarda Asti perché ovviamente le dirigenze che sono impegnate durante l'anno per il palio di Asti a individuare il soggetto puro sangue più adatto alla pista con una certa morfologia e nel discorso nella carrella relativa appunto alla direttiva Martini abbiamo proprio ascoltato qualche dirigente che si sta come dire orientando su due strade diverse vedremo un po' quello che succederà nei prossimi mesi si sta lavorando al mezzo sangue si sta lavorando alle misure come diceva appunto Susanna Sonna Piori ma entriamo ovviamente nella cronaca relativa alla seconda corsa di questo pomeriggio Sì Cavalli e Fantini a questo punto sono già agli ordini di Gennaro Milone lo abbiamo detto i cavalli sono dieci verranno chiamati fra poco all'interno dei due canapi quindi allo steccato ci sarà Giovanni Azeni con la giubba storica quella azzurro-rosa Milone non ha ancora iniziato a chiamare Cavalli e Fantini si stanno ora avvicinando nella zona del via nomi naturalmente importantissimi quelli che abbiamo in questa seconda corsa senza altro tutti coloro che parteciperanno al paglio di Legnano sono intendo di Fantini non Cavalli naturalmente sono presenti in questa corsa sta entrando intanto proprio Giovanni Azeni Giovanni Azeni con Casinò accanto a lui la giubba ve l'abbiamo detta è quella azzurro e rosa con strisce verticali entra anche Jonathan Bartoletti con questo bellissimo Roano Jonathan Bartoletti con Piripicchio la giubba è azzurro e gialla è entrato anche Giosuè Carboni con giubba verde e azzurra e anche Enrico Bruschelli con giubba verde e grigia quindi Sanna con giubba bianco viola ancora Simone Mereu con giubba rosso blu mentre entra anche egli con giubba rosso blu a linee verticali Giuseppe Zedde con Bimbino è entrato poi Dino Pess con giubba azzurro Fucsia intanto c'è stato un abbassamento precauzionale del canape e Cavalli e Fantini che fanno naturalmente un ulteriore giro per tendere nuovamente il canape ed andare a cercare un nuovo allineamento intanto continuiamo con le presentazioni eravamo arrivati ad azzardo con Dino Pess Dino Pess con giubba azzurro e Fucsia mentre la giubba blu con mostrine celesti è quella di Dino Pess che monta scusatemi di Andrea Mari che monta a prize mentre il numero 9 red è con Simone Mereu che abbiamo già presentato con giubba rosso e blu mentre di rincorsa ci sarà Danilo Todd con giubba grigio e bordeaux il numero 10 è per asso come vi ricordava Alessandro Lorenzini la corsa è su mille e cento metri quindi l'arrivo è nuovamente lato Fornaci e giudici di arrivo che sono Cinzia Giglioli ed Enrico Corbelli che sono già in postazione così come il mossiere che è Gennaro Milone ve lo abbiamo raccontato nel corso della precedente corsa e rientriamo in cronaca per questa seconda corsa corsa premio service accounts per cavalli di 4 anni e oltre cavalli puro sangue mille e cento metri quindi l'arrivo sarà lato Fornaci opposto alla nostra postazione Gennaro Milone sta già richiamando dopo la prima mossa falsa o meglio un abbassamento precauzionale del canape sta già richiamando appunto quelli che saranno i protagonisti di questa seconda corsa sì c'è stata una piccola forzatura da parte di Carboni e naturalmente Milone ha immediatamente abbassato nel frattempo stanno tutti rientrando all'interno dei due canapi c'è già Zeni Bartoletti Enrico Bruschelli Giosuè Carboni Sanna Zed sta entrando ora Dino Pess sta entrando anche Andrea Mari c'è Mereu fuori in nona posizione la decima posizione per Danilo Todde con un po' di confusione all'interno dei canapi con Bartoletti fermo in posizione così come Carboni c'è Danilo Todde ancora che sta muovendo il proprio cavallo ora la mossa sembrerebbe abbastanza matura con Gennaro Milone infatti che invita la rincorsa ad entrare in realtà i cavalli ora sono veramente fermissimi sono davvero uno spettacolo si aspetta soltanto che la rincorsa decida di entrare c'è fuori posizione invece Enrico Bruschelli così come Giuseppe Zed Bruschelli è fuori posizione con Carboni accanto ora c'è Azeni che è fuori posizione con la rincorsa che viene invitata ad allontanarsi perché in realtà rispetto all'allineamento che era prima abbastanza preciso ora c'è qualche movimento di troppo ora c'è Zed completamente fuori posizione che non trova posto in realtà ci sarebbe posto fra Bartoletti e Carboni non fanno entrare Zed Carboni si posiziona ora nella sua posizione che è la terza per cui c'è Danilo Todde ancora che si sta vediamo se Zed è fuori posizione trova ora posto con Todde che sembra avvicinarsi questa mossa sembrerebbe davvero matura vediamo se è il momento buono sì la mossa è buona mossa buona con la prima posizione per Giuseppe Zed all'interno c'è Jonathan Bartoletti esce primo Jonathan Bartoletti Bartoletti in prima posizione con Piripicchio all'esterno c'è Zed Giuseppe Zed con Bimbino prova ad attaccarlo per linee esterne ancora Josue Carboni Josue Carboni in terza posizione con Willy Wonka ancora prima posizione per Bartoletti Bartoletti in prima con Piripicchio prova ad attaccarlo per linee interne Giuseppe Zed ci prova ora dall'esterno ancora un attacco da parte di Zed sta venendo fuori molto bene anche Dino Pess Dino Pess con Azzardo e anche Andrea Mari che prova dall'interno Andrea Mari prova per linee interne a guadagnare la prima posizione Andrea Mari che guadagna la testa delle operazioni Andrea Mari con Upprise in prima posizione la seconda posizione per Dino Pess con Azzardo quindi Jonathan Bartoletti a seguire gli altri prima posizione per Andrea Mari la seconda per Bartoletti quindi Dino Pess e Azzeni attendo l'ordine ufficiale di arrivo con comunque i giudici che verranno tra poco a certificarci una combattutissima con Jonathan Bartoletti che ha preso la testa all'inizio poi però si è dovuto rendere al rientro prima di Dino Pess e poi quello all'interno di Andrea Mari che ha conquistato il successo con Upprise regolando proprio lo stesso Dino Pess per linee esterne con Azzardo Siamo giunti alla terza corsa a Pian delle Fornaci questa bella riunione in questo splendido impianto ulteriormente migliorato lo abbiamo detto con l'inaugurazione questo pomeriggio del parco giochi per bambini tra l'altro la società Pian delle Fornaci ha stretto collaborazioni in questi anni con tanti enti per esempio l'ASP città di Siena anche questo pomeriggio sono presenti alcuni anziani della struttura Campanzi che ovviamente possono godere di questa bella giornata fuori dalla propria struttura insieme a tante persone tanti sienesi e non che sono giunti questo pomeriggio appunto a Pian delle Fornaci la terza corsa è il premio Banca Crass metri 1450 quindi l'arrivo sarà sotto la nostra postazione quindi lato tribuna corsa per cavalli anglo-arabi di 4 anni e oltre con il numero 1 ci sarà Contestetou il proprietario è Guido Ferrini il fantino è Federico Guglielmi con il numero 2 Pressing De Mores di Silvano Vigni il fantino sarà Simone Mereo con il numero 3 Brigantes il proprietario è Pietro Angeletti Pasquali sarà il fantino e poi con il numero 4 Matato il proprietario è Camilla Marzi il fantino sarà Andrea Coghe Nannedu con il numero 5 il proprietario Alessio Mighelli che sarà anche il fantino poi con il numero 6 Tarocco il proprietario è Simone Mereu e il fantino sarà Sebastiano Murtas con il 7 Tabasco il proprietario è Giuliano Brandini sarà Giuseppe Angioi a montarlo questo pomeriggio quindi con il numero 8 Vitruvio da Clodia il proprietario è Carlo Brocci Puzzu che sarà il fantino questo pomeriggio Tattaliu con il numero 9 di Massimo Columbo il fantino sarà lo stesso Vereno II Massimo Columbo che quindi monterà questa sera Pian delle Fornaci con il numero 10 di rincorsa ci sarà Questione d'Amore di Alessandro Frosini Adrian Topalli sarà il fantino cavalli conosciuti Susanna ovviamente sempre grande interesse attorno a questi cavalli daremo un occhio anche a coloro che saranno protagonisti perché ci sono come al solito tanti giovani e meno giovani che vogliono riaffacciarsi o affacciarsi per la prima volta in piazza del campo Sicuramente sì lo abbiamo ripetuto molte volte certo questo impianto non è probante per piazza del campo per quanto riguarda i cavalli fra l'altro oggi la pista è anche particolarmente pesante quindi è proprio un sabbione che è esattamente il contrario di quello che poi eventualmente questi cavalli potrebbero trovare in piazza in realtà qui si tratta di cavalli tutti molto conosciuti probabilmente guardati con occhi interessati anche per i prossimi ingaggi in prospettiva del Paglio di Ferrara o comunque per la tratta del Paglio di Fuscecchio cavalli importanti che hanno fatto molto bene anche in piano che già si vedono sbattagliare in provincia da diversi anni e quindi una corsa interessante da guardare con attenzione Pressing de Mores mi viene da dire su tutte la cavalla di Silvano Vigni che si è sempre davvero ben distinta molto interessante anche Matato i Clodia sono sempre una garanzia quindi cavalli davvero da guardare veramente e di nuovo complimenti anche agli organizzatori perché queste corse sono tutte molto nutrite anche in questo caso si tratta di 10 cavalli 10 cavalli anglo-arabi che ci faranno vedere un bellissimo arrivo proprio di fronte questa volta di fronte alla nostra postazione quindi per noi magari sarà questa volta più facile anche prendere l'arrivo bene perché l'arrivo è il lato tribune quindi su 1.450 li vediamo proprio di fronte a noi voglio ricordare i numeri di questa giornata 66 cavalli che sono iscritti e che saranno protagonisti in questo pomeriggio quasi 150 cavalli nelle due giornate e come diciamo ormai da diverso tempo un impianto che ha trovato una seconda giovinezza diciamo così con tanto interesse non solo in queste due giornate di corse per questa stagione ma tutto l'anno perché è veramente un impianto soprattutto ovviamente nei mesi che si avvicinano agli appuntamenti palieschi vissuto da fantini da proprietari da appassionati da dirigenze di contrada ed è questo credo che fosse poi l'intento al di là delle giornate di corse che sono comunque importanti fosse l'intento appunto di Pian delle Fornaci della società Pian delle Fornaci insieme ovviamente all'amministrazione comunale per questo impianto intitolato a Paganini che ovviamente vede una come dicevamo una seconda giovinezza ma Gennaro Milone sta attendendo il canape con quella particolare meccanismo che è stato creato anche per Pian delle Fornaci a collo di cigno lo definiamo così che permette i più attenti lo avranno notato permette una caduta del canape migliore in sicurezza abbiamo parlato di questo anche con Gennaro Milone questo meccanismo permette appunto che il canape di fatto caschi da due parti e quindi abbia una maggiore sicurezza per coloro che appunto sono al canape è una macchigine interessante chissà quali saranno gli sviluppi ovviamente noi ve li racconteremo da vicino Sì fra l'altro qui già il canape aveva un'ulteriore peculiarità che è quella di avere un'anima in piombo fatta a grani di rosario per cui in teoria qui si sarebbe almeno per quanto ci ha detto Milone a Monteroni si sarebbe raggiunta una sorta di perfezione per cui un canape che casca per pesantezza e che contemporaneamente casca da due lati quindi vediamo se questa idea di un appassionato contro Adaiolo dell'onda avrà poi successivi sviluppi nel frattempo stanno entrando Cavagli e Fantini per questa terza corsa con Milone che ha chiamato Federico Guglielmi con il numero uno Contestetù Guglielmi con Contestetù di Guido Ferrini la giubba di Guglielmi è viola e verde accanto a lui c'è Pressing de Mores con Simone Mereu Simone Mereu che ha una giubba diversa da quella con cui siamo abituati a vederlo correre infatti è la giubba di Silvano Vigni la giubba arancio verde con Simone Mereu accanto a Simone Mereu con Brigantes Cep Pasquali Brigantes di Piero Angeletti la giubba di Pasquali è verde rossa accanto ancora si sta avvicinando il grigio matato con Andrea Coghe Andrea Coghe con giubba nero fucsia ed arancio e accanto ancora c'è Alessio Mighelli con giubba verde e bianca Alessio Mighelli con Naneddu anche questo cavallo molto conosciuto che ha fatto anche buoni risultati in provincia accanto ancora c'è Sebastiano Murtas con giubba bianco nera e con giubba argento nera invece c'è Giuseppe Angioi Giuseppe Angioi quindi Michel Puzzo con Vitruvio da Clodia Tabasco è di Giuliano Brandini Vitruvio da Clodia è di Carlo Brocci accanto ancora c'è Tattaliu con Massimo Columbo e quindi di rincorsa a questione d'amore vediamo se la mossa sta maturando si sta muovendo Pasquali in questo momento con Brigantes fuori posizione c'è anche Michel Puzzo con giubba blu bianca Mighelli va a cercare il posto allo steccato Angioi è in posizione Pasquali si sta mettendo ora con Brigantes e Sepetto al Canape Alessio Mighelli viene chiamato dal Mossiere invitato a girarsi e a trovare posizione Pasquali fuori posizione Pasquali va a cercare la posizione dovrebbero essere in terza in realtà in questo momento è allo steccato con Milone che invita la rincorsa ad entrare i cavalli erano fermi invece qualcuno si sta muovendo di nuovo ora sarebbero veramente fermi come statue di sale c'è Topalli che chiede spazio bisogna che i cavalli scendano un pochino si sono un po' ringarbugliate le situazioni in realtà i cavalli sono tutti veramente molto tranquilli c'è soltanto Brigantes con Pasquali che ora però trova anche egli posizione la rincorsa non ha posto per entrare quindi giustamente c'è Topalli che chiede posto c'è molto spazio allo steccato ecco i cavalli si stanno riavvicinando anche nelle parti alte c'è molto spazio tra Pasquali che addirittura in questo momento è trasversale con Brigantes Columbo in posizione così come Murtas fuori c'è Michel Puzzo ora il tempo di mossa sembrava maturo ma in realtà si sta ancora muovendo Pasquali con Brigantes tenendo tutti un po' alti e rendendo complicato il compito della rincorsa che non ha spazio per cui vediamo la rincorsa sta venendo su con la mossa che viene invalidata mossa che viene invalidata e naturalmente si cercherà un nuovo allineamento e tirato nuovamente il canap e dunque dopo la partenza non valida data da Gennaro Milone per questa terza corsa 10 cavalli molto conosciuti come abbiamo detto nell'introduzione di questa terza corsa premio Banca Crass corsa per cavalli anglo-arabi di 4 anni e oltre 1450 metri quindi l'arrivo sarà lato tribuna per questa corsa di particolare interesse come dicevamo con tanti cavalli conosciutissimi Susanna Sì sono nuovamente cavalli all'interno dei canapi cavalli e fantini chiamati da Gennaro Milone con allo steccato c'è Contestetù quindi Pressing Demores Brigantes Matato Naneddu Tarocco Tabasco Vitruvio Tattaliu questione d'amore fuori con Adrian Topalli Adrian Topalli un bel inizio di stagione per lui ora è di ricorsa prima c'è stato un abbassamento del canape con una mossa falsa i cavalli ora sembrerebbero abbastanza tranquilli c'è ancora fuori posizione Pasquali con Brigantes ora sembra che cominciamo ad esserci anche se la posizione di Puzzu non permette alla rincorsa di entrare vediamo se ora la rincorsa a posto in realtà la mossa sembrerebbe abbastanza matura ma purtroppo c'è ancora Brigantes che è fuori posizione si stanno muovendo un po' tutti vediamo se ora siamo nel momento di poter andare via ma c'è ancora fuori posizione Pressing Demores con Mereu li cominciano anche un po' a innervosirsi naturalmente perché sono un po' troppo pressati vediamo ora c'è Brigantes con Pasquali che si sta muovendo con Kog che chiede spazio ecco in questo momento siamo veramente in una situazione molto complicata si sente anche un po' di vociare all'interno dei due canapi compito veramente non facile per Milone che invece nel corso delle altre due mosse ha avuto vita decisamente più semplice la mossa è buona mossa buona con la prima posizione di Federico Guglielmi appaiato a Sebastiano Murtas quindi Adrian Topalli c'è Federico Guglielmi con Contestetù in prima posizione la seconda è per Murtas con Tarocco c'è Murtas per linee esterne prova ad attaccare dietro c'è anche Pressing De Mores con Simone Mereu e Matato con Andrea Kog la prima posizione è ancora per Guglielmi lo sta attaccando per linee esterne Murtas Murtas con Tarocco per linee esterne su Contestetù e Guglielmi viene fuori molto bene anche Pressing De Mores la prima posizione è un testa a testa tra Sebastiano Murtas e Federico Guglielmi ma c'è anche Matato e c'è anche Pressing De Mores ancora Contestetù in prima posizione Contestetù in prima posizione quindi Tarocco poi dall'esterno Pressing De Mores con Mereu per linee esterne Mereu con Pressing De Mores la prima è ancora per Contestetù ma Pressing De Mores guadagna la testa delle operazioni Pressing De Mores con Simone Mereu quindi Contestetù con Guglielmi a seguire c'è Sebastiano Murtas ma c'è Alessio Mighelli che per linee esterne prova ad attaccare c'è Alessio Mighelli con Naneddu siamo nella retta che precede l'arrivo con ancora un bellissimo testa a testa con Federico Guglielmi che prova ad attaccare di nuovo ma Pressing De Mores con Simone Mereu in prima posizione la seconda posizione per Contestetù e Federico Guglielmi la terza posizione per Naneddu con Alessio Mighelli che ha rimontato dalle ultime posizioni anche questa corsa combattuta fino in fondo con Alessio Mighelli che ha provato a rientrare con Naneddu nella piegata finale però Pressing De Mores con Simone Mereu ha regolato Contestetù con Federico Guglielmi e poi Alessio Mighelli con Naneddu anche questa corsa molto combattuta fra cavalli conosciutissimi e siamo giunti alla quarta corsa al premio Consorzio Siena Coges 1100 metri corsa per cavalli di 4 anni e oltre per cavalli puro sangue con il numero 1 ci sarà Brigante il proprietario Matteo Pische il fantino sarà lo stesso Matteo Pische con il numero 2 Cannella il proprietario è Valerio Guerrini il fantino Enrico Bruschelli con il numero 3 Norman Price della scuderia Al Giglio il fantino San Antonio Siri con il numero 4 Iceberg della scuderia di Giuseppe Zedde montato da Giuseppe Zedde e poi con il numero 5 Inquieto Mattia Chiavassa è il proprietario e sarà lo stesso Mattia Chiavassa il fantino con il numero 6 Topo Tip il proprietario è Massimo Columbo e il fantino sarà lo stesso Massimo Columbo con il numero 7 Tabata di Giuliano Brandini il fantino sarà Giuseppe Angioi con il numero 8 Smorfia della scuderia Il Parato il fantino sarà Simone Mereu con il numero 9 Boeing Andrea Mari il proprietario sarà Bincoletto a montare questa sera il numero 9 Boeing di rincorsa ci sarà Jack con Sebastiano Murtas il fantino Sebastiano Murtas che è anche il proprietario quindi corsa per cavalli puri 1100 metri corsa ovviamente interessante per gli appassionati di Purosangue per coloro che ovviamente seguono da vicino le corse e i pali che verranno corsi appunto con i cavalli di Purosangue Susanna Sicuramente sì li abbiamo già visti fra l'altro nel corso del primo appuntamento a Pian delle Fornaci e è l'unico impianto questo dove finora è stato possibile far correre cavalli Purosangue infatti la commissione non ha dato un analogo parere per esempio per l'impianto di Monteroni d'Arbia dove i Purosangue avevano da sempre corso e dove invece quest'anno per la prima volta non si sono visti per cui di fatto l'unica possibilità almeno in Toscana di vedere i cavalli Purosangue in azione è proprio l'ippodromo di Pian delle Fornaci e nel frattempo infatti stanno passando di fronte a noi i 10 cavalli e i 10 fantini che tra poco disputeranno questa quarta corsa ancora una corsa sui 1100 metri quindi ancora con un arrivo lato Fornaci con il canape che ancora non è stato teso e con Gennaro Milone che però è in postazione quindi questo ci fa supporre che fra pochissimo verrà chiesto ai fantini di avvicinarsi nella zona di partenza per appunto percorrere questi 1100 metri si volevo ricordare che nelle collaborazioni strette in questi anni e in particolare in questa stagione dalla Pian delle Fornaci SRL abbiamo citato l'azienda l'ASP città di Siena con la presenza degli anziani del Campanzi questo pomeriggio l'Università Pestranieri di Siena con tanti studenti che sono stati invitati e sono venuti qui a Pian delle Fornaci a conoscere una delle realtà che fa appunto da cornice proprio per il Palio di Siena è interessante anche far conoscere agli studenti che vengono appunto a studiare all'Università Pestranieri di Siena questa realtà che non è solo ovviamente soltanto il 2 luglio e il 16 agosto ma tutto un ambiente tutto un movimento di cui appunto Pian delle Fornaci fa assolutamente parte e queste giornate sono servite evidentemente anche a questi studenti per capire meglio cos'è Siena cosa sono i cavalli e cosa sono i cavalli per Siena Eh sì c'è un lunghissimo lavoro dietro a quel minuto e poco più in realtà perché poi magari noi siamo abituati a mitizzare a vedere quasi come attori come eroi i dieci fantini che disputano il Palio in realtà dietro a loro c'è un grandissimo lavoro delle medesime persone ma anche di tutti coloro che sono intorno le scuderie già in questo momento cominciano a lavorare intorno alle 5 del mattino 4 e mezzo 5 per cui insomma questo è un lavoro veramente molto molto impegnativo sia per i per i cavalli che sono comunque atleti e che hanno bisogno e necessità di essere lavorati e di essere allenati così come per i fantini che sono altrettanto professionisti e atleti hanno bisogno di preservare il loro fisico quindi è un lavoro enorme che comincia dalle scuderie che poi passa per tutto il percorso di addestramento la scelta dei cavalli la ricerca anche dei cavalli perché per arrivare a quei famosi 151 di cui parlavamo prima in molti si sono mossi sono andati in Sardegna hanno cercato cavalli adatti hanno cercato cavalli con le misure quindi anche far sapere che cosa c'è prima può essere veramente interessante nel frattempo c'è Milone che inizia a chiamare cavalli e fantini chiama Matteo Pisch con Brigante la giubba di Pisch è nero-gialla e si sta avvicinando in questo momento allo steccato seguito da Enrico Bruschelli con il numero 2 Cannella la proprietà è Valerio Guerrini la giubba di Bruschelli è verde-grigia accanto a lui c'è Antonio Siri con giubba verde-rossa anzi si sta avvicinando con il cavallo che ha qualche piccola riottosità ma ora sembra convinto e si sta avvicinando Norman Price con Antonio Siri accanto a lui c'è Giuseppe Zedde con Iceberg Zedde con giubba rosso-blu e maniche bianche accanto ancora c'è Chiavassa con giubba nero con riga orizzontale-azzurra quindi Columbo con Topo Tip giubba storica per Massimo Columbo quella nero-grigia accanto a lui c'è Angioi con giubba nero-argento a Rombi si sta avvicinando in questo momento Simone Mereu che ha invece la giubba arancio-blu Simone Mereu si sta avvicinando in questo momento non è ancora entrato Mereu è entrato intanto però Bincoletto Mereu è entrato e quindi la rincorsa per Sebastiano Murtas con giubba rosso-blu con stelle bianche cavalli puro sangue ma abbastanza tranquilli con pische che è ancora allo steccato un po' dietro sono abbastanza dritti c'è Bincoletto con ancora fuori Murtas gli occhi sono tutti su di lui con la mossa buona mossa buona con la prima posizione per Norman Price la seconda posizione per Norman Price perché in prima posizione ora c'è invece Enrico Bruschelli ma è ancora Norman Price con Siri dietro c'è Simone Mereu con il numero 8 Simone Mereu in terza posizione ancora la prima posizione per Antonio Siri Antonio Siri in prima posizione Simone Mereu con Smorfia Antonio Siri ancora in prima posizione la seconda è ancora per Mereu gli altri a seguire stanno passando in questo momento di fronte alla mia postazione con anche Giuseppe Zed che viene fuori molto bene con Iceberg la prima è ancora per Siri la seconda è per Mereu per linee esterne prova ad attaccare Zed Zed con Iceberg per linee esterne ancora la prima posizione però è per Antonio Siri siamo nella retta che precede l'arrivo con Antonio Siri che va a vincere con Norman Price la seconda posizione per Giuseppe Zed con Iceberg la terza posizione per Simone Mereu con Smorfia quarta corsa che si è completata a 1100 metri corsa per cavalli puro sangue con Norman Price e Antonio Siri che hanno regolato il rientro di Giuseppe Zed con Iceberg e poi Smorfia con Simone Mereu della scuderia Il Parato che conquista la terza piazza cavalli in pista per la quinta corsa il premio Amedeo Bernardoni corsa per cavalli di quattro anni e oltre miglia e 450 metri quindi l'arrivo lato tribune sotto la nostra postazione una corsa per cavalli puro sangue con il numero 1 ci sarà Giocoliere la proprietà della scuderia di Giuseppe Zed il Fantino lo stesso Giuseppe Zed il numero 2 Totò il proprietario è Walter Pusceddo il Fantino sarà Giovanni Azzeni con il numero 3 De Lion Guard il proprietario è Mario Canu il Fantino sarà Antonio Siri con il numero 4 Calimero Matteo Pischi il proprietario sarà anche il Fantino con il numero 5 Indongo il proprietario è Luisa Mondovì il Fantino sarà Antonio Villella con il numero 6 Paiarito la proprietà di Alessio Mighelli che sarà anche il Fantino con il numero 7 Abanero la scuderia Caraibi Fantino Andrea Mari con il numero 8 Bernardo il proprietario Walter Pusceddo che sarà il Fantino questo pomeriggio a Pian delle Fornaci con il numero 9 Pensa per te il proprietario Camilla Marzi Andrea Coghe il Fantino in conclusione con il numero 10 di rincorsa ci sarà Chicca la proprietà di Alessandro Colombati che sarà anche il Fantino tra le curiosità ovviamente il rientro nel circuito di Antonio Villella fra le altre curiosità di questo pomeriggio ovviamente per questa corsa per puro sangue Susanna sì se ne era anche un po' parlato anche sulla stampa c'era stata una sorta di anche qui un po' di fantapaglio era stato fatto sul fatto che Villella fosse ritornato a Siena in realtà poi lui precisò che veniva soltanto a montare alcuni cavalli alla scuderia di Maurizio Pacchi tant'è che poi in provincia non si è visto mai sugli anglo-arabi che Pacchi si è montato da solo quindi probabilmente era insomma era stato detto e scritto un po' di più di quello che è la realtà certamente il fatto oggi di rivederlo a cavallo anche se su un cavallo puro sangue qualche come dire qualche gossip sì qualche idea comunque la fa venire non dimentichiamo che dopo una lunghissima assenza dalla piazza poi fu riproposto a seguito dell'infortunio di Sebastiano Murtas fu riproposto dalla Tartuca che però in quel in quel momento tutti noi avevamo la sensazione che lui fosse già in Tartuca o comunque nell'orbita insomma non fu una sostituzione casuale quindi magari qualcun altro o per scommettere di nuovo o per fare un palio in difesa chissà magari oppure semplicemente lui è qui perché ha un puro sangue bello da provare ecco sì perché a volte no? poi tanti si fanno tante considerazioni ma poi le valutazioni sono molto più semplici di quelle che in realtà poi si pensi e quindi evidentemente poi vedremo comunque la forma di Antonio Villella che monterà il numero 5 Ndongo proprietà di Luisa Mondovi per questa corsa 1450 metri per cavalli puro sangue vediamo dalla nostra postazione tanti senesi ovviamente tanti dirigenti di Contrada che sono presenti come sempre sempre presenti anche a Pian delle Fornaci in questo splendido impianto tra le altre collaborazioni che la società Pian delle Fornaci ha stretto in questi anni anche con la Lega Tumori che da sempre insomma riceve il contributo di tanti fantini di tanti big della piazza per la prevenzione appunto dei tumori e tra l'altro la Lega Tumori sarà protagonista nella sesta corsa con un premio appunto prevenzione Lilt sempre di grande attenzione la grande attenzione di Lega Tumori verso il territorio e viceversa mi verrebbe da dire perché appunto poi c'è grande attenzione verso l'attività di Lega Tumori è quasi tutto pronto per questa quinta corsa il premio Omedeo Bernardoni 1450 metri bene allora siamo giunti appunto alla quinta corsa come vi diceva Alessandro il premio è Amedeo Bernardoni si tratta di cavalli puro sangue di 4 anni ed oltre con il canape che sta per essere teso e cavalli e fantini che tra poco saranno nuovamente agli ordini di Gennaro Milone ancora gli addetti al canape non hanno ultimato le operazioni perché comunque per armare il canape naturalmente deve essere anche messo un peso perché il tutto si svolga in sicurezza stanno ora tendendo il canape quindi fra poco Milone comincerà a chiamare i cavalli e i fantini all'interno dei due canape ecco il canape che in questo momento è teso e si comincia a chiamare allo steccato ci sarà proprio Giuseppe Zed Giuseppe Zed con giocoliere la giubba di Giuseppe Zed è quella che tutti noi abbiamo imparato a riconoscere è quella rosso a righe orizzontali verticali blu con maniche bianche allo steccato quindi Zed dopo di lui ci sarà Giovanni Azzeni Giovanni Azzeni con Totò e con giubba rosa e azzurra quella di Giovanni Azzeni numero 3 è per The Lion Guard la scuderia è quella di Mario Canu la proprietà quindi di solito una garanzia come preparatore e come allenatore Mario Canu per cui da guardare con attenzione questo numero 3 che verrà montato da Antonio Siri che ha rindossato la sua giubba abituale lo abbiamo visto prima correre con una giubba verde-bianca evidentemente quelli sono i colori della scuderia Il Giglio mentre questi sono i colori con cui siamo abituati a vederlo correre da sempre la giubba nero e azzurra sta chiamando appunto Milone Giuseppe Zed che è ancora lontano si sta avvicinando ora a Giuseppe Zed che va allo steccato numero 1 per Giocoliere entra ora Zed lo segue a Zeni con Totò quindi Antonio Siri che abbiamo già presentato non abbiamo presentato invece Calimero con Matteo Pische numero 4 di coscia per Calimero giubba nero-gialla per Matteo Pische la giubba tutta azzurra invece quella di Antonio Villella che entra con il numero 5 in Dongo seguito da Alessio Mighelli con giubba verde bianca entra quindi Andrea Mari anche per lui giubba storica quella blu con mostrine azzurre quindi Walter Pusceddo con giubba bianca stelle blu e poi Andrea coge con giubba nero fucsia in maniche arancio la rincorsa è per Alessandro Colombati con giubba blu azzurra sembrano tutti abbastanza tranquilli abbastanza in posizione vediamo se c'è posto per la rincorsa sono un po' troppo alti in realtà c'è molto spazio tra Zed e a Zeni mentre Mari al momento non trova posizione con il cavallo che si muove un po' il cavallo di Andrea Mari a banero abbastanza tranquilli gli altri con Mari che però è fuori posizione Mari che dovrebbe essere in settima posizione ecco ora ha trovato posto sembra abbastanza tranquillo mentre c'è qualche problema per pensa per te con Andrea coge pensa per te ancora fuori posizione così non c'è posto per entrare Colombati non entra se coge non riesce a tranquillizzare un attimino il proprio cavallo a metterlo in posizione ecco ora sembrerebbe abbastanza matura questa mossa con i cavalli che sono tutti tranquilli a parte pensa per te con coge che ora invece sembra avere trovato posizione tutti fermi davvero i cavalli con Colombati e la mossa che viene data non buona e si va naturalmente a cercare un nuovo allineamento e quindi dopo la partenza non data valida da Gennaro Milone evidentemente ha valutato non buono l'allineamento o l'ingresso della rincorsa arriviamo alla quinta corsa il premio Amedeo Bernardoni 1450 metri per puro sangue con 10 cavalli che saranno protagonisti di questa quinta corsa altra corsa interessante con cavalli di 4 anni ed oltre Giuseppe Zed è già entrato così come Giovanni Azzeni Giocoliere e Totò quindi c'è The Lion Guard con Siri è entrato anche Matteo Pisch è entrato anche Antonio Villella con Dongo quindi Alessio Mighelli Andrea Mari con Banero Du con Bernardo Pensa per te con Cog sta entrando ora i cavalli sono tutti abbastanza tranquilli ma c'è stata una forzatura per Andrea Mari il cavallo ha fatto prontamente Milone abbassato e si va a cercare un nuovo allineamento un abbassamento precauzionale del canape da parte di Gennaro Milone per una forzatura o comunque una situazione un po' più diciamo pericolosa che ha coinvolto Andrea Mari è stato bravo Gennaro Milone a evitare qualsiasi problema per cavallo e fantino e quindi abbassare il canape siamo ancora la quinta corsa 1450 metri l'arrivo sarà dal lato tribune vedremo i 10 protagonisti in pista piano delle fornaci su Radio Sena TV nuovo allineamento per questa quinta corsa fino ad ora la più complicata da far partire con già dentro Zed Siri a Zeni Pische è entrato anche Mari sta entrando ora Pusceddu è entrato anche Mighelli arriva anche Andrea Coghe con Pensa per te fuori c'è Chica con Colombati bisogna attendere che tutti siano in posizione ora c'è Siri fuori posizione la rincorsa accenna ad avvicinarsi ma per ora non mi sembra che ci siano le condizioni per il via c'è Antonio Siri fuori posizione anche il cavallo di Zed che si muove un po' c'è Milone che chiede a Colombati di avere pazienza e quindi di attendere di venire chiamati per andare a cercare un buon tempo del via la rincorsa è ancora fuori Siri è fuori posizione ora prova ad entrare ancora qualche problema per Pensa per te e c'è anche Siri che ha qualche problema con The Lion Guard i cavalli sono un po' più nervosi in questa quinta corsa vediamo se Siri riesce a trovare un varco per il momento anche Villella è completamente fuori posizione addirittura in posizione orizzontale rispetto al Canap e Villella quindi è moltissimo spazio fra l'altro tra Puscedo e Cog vediamo se provano a rialzarsi tutti e a rientrare vediamo ora rientra Villella ora Villella con neppetto al Canap in Dongo c'è ancora Siri fuori posizione la rincorsa sta aspettando e Cog a cui viene chiesto di scendere un po' per permettere alla rincorsa di entrare ancora Villella fuori posizione così come Siri è abbastanza complicato mi sembra vediamo se ora questa mossa sta maturando ok la mossa è buona con la prima posizione per Giuseppe Zed Giuseppe Zed è in prima posizione all'esterno c'è Walter Puscedo quindi c'è Andrea Mari Andrea Mari per linee interne c'è Azeni e all'esterno c'è Alessandro Colombati con Chica prima posizione ancora per Zed giocoliere con Zed mentre Bernardo con Puscedo in seconda posizione sono invariate le posizioni di testa ancora Giuseppe Zed con la prima posizione e Walter Puscedo che mantiene la seconda posizione c'è Walter Puscedo e poi c'è anche Andrea Mari che si sta affacciando ed anche Giovanni Azeni la prima posizione ora è per Puscedo la seconda è per Zed la terza posizione è per Azeni che prova ad attaccare per linee esterne con Totò prova ad attaccare Azeni la prima è ancora per Puscedo ma dentro c'è ancora Zed dall'interno prova a venire fuori molto bene Andrea Mari che guadagna metri preziosi Andrea Mari in questo momento è in seconda posizione la prima è ancora per Puscedo prima posizione per Walter Puscedo con Bernardo la seconda è per Andrea Mari prova ad attaccare prova ad attaccare nella curva che precede la retta dell'arrivo la prima posizione è ancora per Walter Puscedo vicino c'è Andrea Mari siamo nella retta d'arrivo con la prima posizione per Walter Puscedo e Bernardo la seconda è per Andrea Mari la terza posizione per Antonio Siri quindi Antonio Siri con The Lion Guard e Andrea Mari con Abba Nero prima posizione comunque per Walter Puscedo con Bernardo dunque dopo una partenza una mossa laboriosa riesce comunque a primeggiare Walter Puscedo con Bernardo che rintuzza il ritorno di Andrea Mari con Abba Nero e poi The Lion Guard che conquista con Antonio Siri la terza piazza Puscedo In pista per la sesta corsa premio prevenzione Lilt, avevamo parlato in precedenza della Lega Tumori del rapporto con Pian delle Fornace, del rapporto col mondo dei Fantini che spesso sono stati generosi appunto con la Lega Tumori per l'azione di prevenzione per la lotta contro i tumori. Dicevo 8 cavalli per questa corsa per l'angolo arabi di 4 anni oltre, 1100 metri quindi arrivo lato Fornaci con il numero 1 Ungolo di Margherti, il Fantino sarà De Rio, con il numero 2 Un Amore di Stefano Vanni con Salvo Vicino il Fantino, con il numero 3 Laggio Conda il proprietario Leonardo D'Ascenso, Simone Mereo sarà il Fantino con il numero 4 Urbania, il proprietario Federico Andreini, Cersosimo il Fantino. Con il numero 5 Un Fuoriclasse, Andrea Fanetti è il proprietario, Guglielmi sarà il Fantino con il numero 6 Uccell di Bosco, il proprietario è Pietro Careddu e ci sarà Murtas a montare questo cavallo. Con il numero 7 Trilussa di Francesca Rosi, Alessio Mighelli il Fantino di rincorsa, ci sarà Unico De Aghenta con Michael Day che è il proprietario, ci sarà Chiavassa a montarlo per questa sesta corsa, lo ripeto, 1100 metri. Corsa per cavalli anglo-arabi di 4 anni e oltre, quindi cavalli che interessano da vicino tanti appassionati. Questa sera a Pian delle Fornaci per la penultima corsa di questa riunione di corse a pelo. Susanna. Sì, un programma interessante che si sta declinando e sta avvolgendo al termine, siamo infatti alla sesta e penultima corsa delle sette in programma, tutte senza defezioni, senza cambi di monta, quindi una organizzazione che denota anche serietà e capacità organizzativa. Sono otto i cavalli in questa sesta corsa, sono cavalli anglo-arabi come diceva Alessandro e sono per lo più, mi sembra, cavalli di 4 anni a parte Trilussa, il cavallo di Francesco Rosi che verrà montato da Alessio Mighelli. Per il resto quindi sono cavalli giovani che quest'anno iniziano a fare un percorso che poi se del caso li porterà comunque a poter disputare le prove di notte ma poi la carriera diciamo di questi cavalli per il primo anno si fermerà qui. Interessante comunque come dicevamo prima vedere il comportamento dei fantini ai canapi e soprattutto Alessandro notare che questi cavalli sono veramente tutti preparati benissimo, addirittura sembrano anche un po' troppo avanti di preparazione per qualche verso ma naturalmente io e te facciamo mestieri diversi e quelli che li lavorano sapranno perfettamente come contenersi. Beh direi di sì, abbiamo visto cavalli preparati, fantini preparati evidentemente come dicevo appunto in precedenza si sente aria di palio anche nelle scuderie ovviamente quindi si arriva già pronti a questi appuntamenti che sono comunque vetrine importanti come abbiamo detto soprattutto per i più giovani ma non solo direi perché abbiamo visto montare per esempio tanti big Andrea Mari, Giovanni Azzeni, Jonathan Bartoletti insomma le tre punte in questo momento ovviamente, poi Luigi Bruschelli, insomma evidentemente c'è sempre grande interesse per questi appuntamenti e tutti vogliono arrivare in forma splendida. Per quanto riguarda i cavalli come dicevi giustamente tu mi è sembrato di vedere tutti i cavalli pronti, ben preparati, ovviamente poi c'è una specifica preparazione che va affinata nelle prossime settimane in vista degli appuntamenti che ognuno si è prefisso ovviamente anche in vista della tratta anche se l'iter appena ha cominciato abbiamo detto delle previsite per la missione al protocollo che si sono svolte negli scorsi giorni vedremo quali saranno le decisioni della commissione veterinaria, poi ci sarà tutto il leader delle corse di Monticiano e di Mosciano e poi arriveremo a fine giugno con le previsite vere e proprie al CEPO, la missione alla tratta e quindi tutte le decisioni fino ad arrivare a quella poi decisiva, mi permetto di usare questa parola per dei dieci capitani, però insomma già diciamo siamo in discesa, abbiamo scavallato l'inverno quindi ovviamente si respira un'area diversa, questo lo possiamo tranquillamente dire. Sesta corsa, come dicevo premio prevenzione Lilt, la Lega Tumori, un'entità importante per il nostro territorio che ha voluto dedicare la sesta corsa di questa riunione di Pian de le Fornaci. E sì, Milone sta infatti chiamando i cavalli e i fantini di questa sesta corsa, è entrato Ungolo, la proprietà è di Mark Ghetti con Giuseppe De Rio, la giubba è nero-gialla, numero uno per Ungolo. Accanto a lui c'è un amore di Stefano Vanni con Salvo Vicino, Salvo Vicino ha la giubba blu e celeste, si avvicina anche Alessandro Cerzosimo con Urbania, è entrato anche Simone Mereu con la gioconda, quindi Sebastiano Murtas e Federico Guglielmi, Federico Guglielmi con un fuoriclasse, giubba viola verde, Mighelli con giubba verde-bianca, Murtas e con giubba nero-bianca, fuori c'è Mattia Chiavassa, i cavalli sembrerebbero abbastanza tranquilli, c'è Salvo Vicino fuori posizione, la rincorsa si sta muovendo, gli altri sono abbastanza tranquilli, c'è fuori posizione solo un amore, la sensazione è che voglia entrare subito Mattia Chiavassa o che comunque voglia entrare con il cavallo mosso, gli altri sono abbastanza tranquilli, c'è solo Vicino in questo momento che ha girato, ecco ora i cavalli sono tutti in postazione, la rincorsa in teoria potrebbe entrare quando vuole, vediamo che cosa deciderà, cavallo che viene tenuto in movimento da Mattia Chiavassa, un golo di Aighenta, c'è anche Cersosimo ora fuori posizione, vediamo se il momento è quello buono, Chiavassa dà la sensazione appunto di voler partire è ingambato, almeno così sembra perché tiene il cavallo in movimento, mentre gli altri sono tutti fermi, ma si è girato vicino con un amore, tranquillissimi gli altri davvero, si muove anche Cersosimo con Urbania, Urbania la cavalla di Federico Andreini, e ora anche Micheli che in questo momento è troppo alto e quindi la rincorsa in teoria non potrebbe entrare, ora la mossa sembrerebbe davvero matura, non si capisce bene che cosa voglia fare Chiavassa, evidentemente avrà qualcosa in mente, ripeto, la sensazione è quella che voglia entrare mosso, ora c'è stata anche un'intemperanza da parte del cavallo di Murtas, Uccell di Bosco che si è innervosito, ora c'è anche appunto Murtas fuori posizione, la mossa in realtà è sembrata matura in due o tre occasioni, fermissimo Giuseppe De Riu con Ungolo, accanto c'è anche Vicino, fermissimo anche Mereu con la Gioconda, così come Cersosimo, Guglielmi, Murtas, c'è Migeli, vediamo se ci siamo, un balletto molto strano quello di Mattia Chiavassa che si capisce poco, vediamo se ora ci siamo, non c'è spazio per entrare perché nel frattempo si sono alzati, ma giustamente, giustamente c'è Milone che lo invita ad avvicinarsi e a non muovere il cavallo in continuazione perché diventa complicato poi capire il momento in cui si può entrare, vediamo ora Salvo Vicino che è fuori posizione, Ungolo allo steccato è fermissimo, mossa non valida, con la mossa che viene data non valida. Bene, si va a cercare un nuovo allineamento dopo che la mossa è stata invalidata, ancora Milone che sta chiamando Cavalli e Fantini all'interno dei due canapi, entra Giuseppe De Riù con Ungolo, la proprietà è Mark Ghetti, la giubba è giallo-nero, entra anche Salvo Vicino con un amore di Stefano Vanni, la giubba è azzurro e blu, sta entrando in questo momento, numero 2 per un amore qualche riottosità da parte del cavallo che non gradisce entrare, prima lo ha fatto in tranquillità, ora evidentemente qualcosa lo ha disturbato, per cui attendiamo che entri un amore che dovrebbe essere in seconda posizione, mentre è tranquillissimo allo steccato Ungolo, è entrato anche Mereu, è entrato Salvo Vicino con un amore, sta entrando Murtas, Mereu con giubba rosso-blu, Cersosimo con giubba giallo-nera, è entrato anche Guglielmi con giubba viola-verde, quindi Murtas, Mighelli e Chiavassa di rincorsa, premio Lilt, premio prevenzione Lilt, con Chiavassa che fa esattamente come faceva nella mossa precedente, che poi è stata invalidata, sono davvero curiosa di capire che tipo di partenza vuole prendere. Mattia Chiavassa di rincorsa, gli altri sono fermi, c'è Salvo Vicino fuori posizione, che però ora si aggiusta all'esterno, ecco Salvo Vicino va a cercare la propria posizione, il cavallo c'è spazio, in realtà tra il secondo e il terzo, ma c'è un po' di confusione ancora, è la mossa che viene invalidata nuovamente, cavalli che vengono ripresi, per andare a cercare un nuovo allineamento. Si prova ancora a partire in questa complicata sesta corsa, con diversi abbassamenti del canape, con qualche difficoltà a trovare il tempo del viaggio, è entrato Ungolo con Giuseppe De Rio, è entrato anche Un Amore con Salvo Vicino, Salvo Vicino con Un Amore che è di proprietà di Stefano Vanni, mentre Ungolo è di proprietà di Mark Ghetti, entra anche Simone Mereu con giubba rosso-blu, giallo-nero invece la giubba di Giuseppe De Rio, è azzurro e blu, è quella di Salvo Vicino, Simone Mereu sta entrando in questo momento, entra anche Alessandro Cerzosimo con giubba nero-gialla, entra anche Federico Guglielmi con giubba viola-verde, e anche Sebastiano Murtas con giubba bianco-nera, quindi Alessio Mighelli e Mattia Chiavassa che deve dare la rincorsa e continua a muovere il proprio cavallo. Ora c'è qualche problema anche per Alessio Mighelli, con Trilussa che va a cercare la posizione, Mighelli dovrebbe essere in settima posizione, Chiavassa si è avvicinato, finalmente tiene il cavallo fermo, però c'è fuori posizione Mighelli che ne impedisce l'entrata, vediamo se Mighelli riuscirà a girare il cavallo, Chiavassa si allontana nuovamente, ancora i cavalli sarebbero in realtà tutti fermi se Chiavassa decide di entrare, probabilmente la mossa è buona, mossa buona con la prima posizione per Sebastiano Murtas, Simone Mereu è invece in prima posizione, Murtas per linee esterne, ancora Simone Mereu con la Gioconda in prima posizione, Sebastiano Murtas con Uccell di Bosco che prova ad attaccare dall'esterno, c'è poi Salvo Vicino, quindi c'è Giuseppe De Rio con Ungolo, Salvo Vicino con Un Amore, ancora prima posizione però per Simone Mereu con la Gioconda, la Gioconda e Simone Mereu in prima posizione, ancora la Gioconda con Simone Mereu, c'è stata una caduta, Simone Mereu è ancora in prima posizione, la seconda è per Sebastiano Murtas, la terza è per Mattia Chiavassa, c'è un cavallo, ragazzi c'è un cavallo che viene contro mano, quindi fate attenzione, anche se siamo nella retta d'arrivo, quindi proviamo a dare l'arrivo e poi rallentate, Simone Mereu in prima, la seconda è per Murtas, la terza è per Guglielmi, attenzione ragazzi, attenti, attenti. Sesta corsa che viene vinta da Simone Mereu, al secondo posto Simone Mereu che vince con la Gioconda, a cavallo di Leonardo D'Ascenso, al secondo posto Uccell di Bosco con Sebastiano Murtas, il cavallo è di Pietro Careddo, al terzo posto fuori classe, proprietario Andrea Fanetti, il proprietario è Federico Guglielmi. E siamo giunti alla settima e ultima corsa di questa riunione a Pian delle Fornaci, premio Città di Siena, metri 1100, quindi arrivo lato Fornaci, corsa per cavalli anglo-arabi di quattro anni e oltre, saranno 10 cavalli che daranno vita a questa ultima corsa, di questa riunione a Pian delle Fornaci, 66 cavalli, quindi tanto spettacolo, gare e corse combattute dall'inizio alla fine, quindi abbiamo vissuto una giornata molto intensa e spettacolare anche in questo pomeriggio a Pian delle Fornaci. La settima corsa con il numero uno Soraya Brillante, il proprietario Romina Miseria, il fantino sarà Massimo Columbo, con il numero due Tony Edu, il proprietario è Mario Savelli, il fantino Sebastiano Murtas, con il numero tre Tiepolo, il proprietario Alessandro Favilli, Michel Puzzo sarà il fantino, con il numero quattro quattro Mori, Giuliano Sampieri è il proprietario, Andrea Chessa il fantino. Con il numero cinque sempre in piedi, Sandro Bercardino è il proprietario, Enrico Bruschelli monterà sempre in piedi, con il quale è stato protagonista nella prima riunione di Pian delle Fornaci, vincendo una gran corsa, con il numero sei Pamperos Baio, il proprietario Mattia Chiavassa, che sarà anche il fantino, quindi con il numero sette Rodrigo Baio, di Massimo Alessi, con Francesco Caria, con il numero otto Pallottola, con Andrea Mari che è il proprietario, Mula sarà il fantino, quindi con il numero nove Chieridare Marchesana, il proprietario Giovanni Azzeni e sarà Cerzosimo a montarlo. Infine con il numero dieci di rincorsa la via da Clodia della scuderia Chi Sapeva con Simone Mereu a guidare questa cavalla. Una corsa ovviamente molto molto interessante. Susanna? Sì, interessante anche perché ci sono dei cavalli che abbiamo visto protagonisti anche nella scorsa stagione, dei cavalli che hanno avuto anche delle affermazioni importanti per cui esperti e questi insomma da guardare davvero con davvero con attenti. Nel frattempo i cavalli si sono tutti avvicinati alla zona del via con Gennaro Milone che è andato in postazione, quindi tra pochissimo verrà atteso il canape per andare a provare il tempo del via. Vediamo se questa ultima corsa sarà meno complicata di quella che l'ha preceduta con dieci cavalli ancora anche qui nessuna defezione per cui davvero grande interesse e grande rispetto per questa manifestazione da parte di tutti i Fantini e devo dire anche questa Alessandro una una notazione rispetto agli anni ogni anno si vede maggiore serietà da parte di questi ragazzi che sono sempre più professionisti io mi ricordo i primi tempi in cui facevo questo lavoro capitava spessissimo cambi di monte ragazzi che non si presentavano che arrivavano in ritardo a meno di problemi proprio contingenti e reali in realtà si comportano tutti da grandi professionisti. Esatto anche questa è una notazione positiva che va ovviamente nei confronti dei Fantini dei proprietari e soprattutto gli organizzatori che evidentemente riescono a mettere insieme un programma puntuale e anche questa sera ben 66 cavalli insomma presenti non ci sono stati problemi l'organizzazione è sfilata via anche come nella parte diciamo che non vediamo che non vedete quella riservata ai van all'organizzazione ai numeri insomma tutta una organizzazione perfetta poi è chiaro che il dipanarsi delle sette corse dipende ovviamente poi anche da quello che succede in pista però direi fino a questo momento veramente tutto perfetto qui a Pian delle Fornaci per una bella giornata di corse a pelo che si sta concludendo con questa settima ed ultima corsa al premio Città di Siena 1100 metri con Gennaro Minone che sta cominciando a chiamare i Fantini e i Cavalli al Canape dopo che è stato teso appunto il Canape e infatti Milone ha chiamato ora Massimo Columbo Massimo Columbo con Soraya Brillante che è allo steccato sta entrando ora Massimo Columbo con giubba nero grigia eccolo qua Columbo numero uno di coscia per Soraya Brillante si sta avvicinando anche Sebastiano Murtas con Tony Eddu giubba bianconera per Sebastiano Murtas sta entrando in questo momento il Sauro con il numero due Tony Eddu lui c'è Michel Puzzo con Tiepolo Michel Puzzo con giubba bianco e blu con Strisce Bordeaux eccolo Michel Puzzo tranquilli i primi tre cavalli entrati entra anche Andrea Chessa con quattro mori che questo è un cavallo molto conosciuto cavallo importante quattro mori con Chessa entrato anche Enrico Bruschelli con sempre in piedi la giubba di Chessa è blu e rossa mentre la giubba di Enrico Bruschelli è verde rossa entrato con sempre in piedi numero cinque per questo Baio numero cinque è entrato anche Mattia Chiavassa con giubba nero-azzurra e Francesco Caria con giubba bianco-verde Francesco Caria è con Rodrigo Baio Mattia Chiavassa è con Pamperos Baio è entrato anche Mula e Cersosimo la rincorsa è per Mereu eccolo qua Cersosimo con la grigia di Azeni Querida De Marchesana Cavalli sono tutti abbastanza tranquilli con Mereu fuori Bruschelli deve mettersi a posto gli altri lo sono già si sta muovendo un po' anche Querida in questo momento qualche problemino all'interno dei canapi Bruschelli cerca posto Bruschelli è in quinta posizione con sempre in piedi prova ad entrare c'è Mereu di rincorsa tutti abbastanza tranquilli con Columbo Murtas Kess Kess Puzzu Bruschelli che deve girarsi sempre in piedi vediamo se trova posto Bruschelli in quinta posizione va a cercare la sua posizione tranquilli ecco anche sempre in piedi che si sta avvicinando vediamo se ci siamo Mereu che sta guardando i colleghi ora la mossa sembrerebbe abbastanza matura la rincorsa viene chiamata cavalli si stanno muovendo e la mossa è buona mossa buona con la prima posizione per Francesco Caria in prima posizione Francesco Caria all'interno c'è Kessa quindi c'è Bruschelli con sempre in piedi Francesco Caria in prima posizione con Rodrigo Baio ancora prima posizione per lui la seconda è per Kessa con quattro mori quindi ci sono Bruschelli e Cersosimo ancora prima posizione per Caria Caria in prima posizione con Rodrigo Baio Rodrigo Baio in prima posizione la seconda per quattro mori con Kessa ancora prima posizione per Caria la seconda è ancora per Kessa con quattro mori quindi c'è Simone Mereu ma c'è ancora Bruschelli con sempre in piedi Simone Mereu invece con la via da Clodia la via da Clodia la grigia che sta guadagnando metri ancora prima posizione per Caria ci sta provando dall'esterno Kessa Caria in prima posizione Kessa è vicinissimo dall'interno c'è anche Michel Puzzo un arrivo veramente molto molto interessante per il quale dovremmo davvero attendere l'ordine ufficiale di arrivo la sensazione è che sia Kessa ma davvero dobbiamo attendere l'ordine ufficiale di arrivo per fare la premiazione e dunque con questo arrivo al photo finish con Andrea Kessa che ha esultato all'arrivo quindi probabilmente ha avuto la sensazione di aver vinto questa settima corsa su Francesco Caria e poi sul ritorno molto forte di Michel Puzzo Contiepolo questa dovrebbe essere l'arrivo attendiamo ovviamente anche la valutazione ufficiale dei giudici ma insomma potremo direi assegnare questa vittoria a quattro mori con Andrea Kessa Giuliano Sampieri il proprietario e poi al secondo posto dovrebbe esserci Drodigo Braio con Francesco Caria il proprietario Massimo Alessi al terzo posto Tiepolo con Michel Puzzo e il proprietario è Alessandro Pavilli questo dovrebbe essere l'ordine di questa ultima corsa sette corse 66 cavalli un bel pomeriggio di spettacolo di corse molto intense tanto pubblico e vi abbiamo raccontato anche questa riunione di corse appelo su Radio Sena TV io vi ringrazio per l'attenzione ringrazio Susanna Pioli per essere stata con me a raccontarvi appunto questo pomeriggio e a risentirci naturalmente sempre su Radio Sena TV